Parte con le Maggiare del Pexi il percorso in Euro Cup per la molisana Magnolia Campobasso. Il rosso-blu andranno ad affrontare domani sera, sul parquet dell'arena con palla a due alle ore 20.30, il team ungherese, che al pari dei fiori d'acciaio ha conosciuto sinora solo successi. Nel roster affidato al coach Serbo Dokic trovano spazio anche due vecchie conoscenze del campionato italiano, come la pivot Boema Racing Erova e l'esterna statunitense Eld, la prima a Vistaschio, la seconda a Venezia. Su fronte Campobassano, la squadra è in buone condizioni, con la sola Chignonez che resterà in box per una problematica di carattere fisico al ginocchio ancora in fase di soluzione. Sarà una sfida di quella all'insegna delle grandi emozioni, con un'arena che si annuncia piena di pubblico per sostenere il gruppo. Da parte sua, coach Mimo Sabatelli è pronta a dar vita ad una gara all'insegna dell'attenzione difensiva, per poi poter andare a tutto campo in transizione per trovare canestri facili. Quello con le ungheresi sarà il primo match del girone di andata per il rosso-blu, che entro fine mese andranno a sfidare anche le catalane del Girona, grandi favorite del raggruppamento, e poi le armene dello Erevan, in entrambi i casi in esterna.